Benvenuto oggi in questa classifica sui migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti che puoi trovare sul mercato e in particolare su Amazon. Ho evitato tutti quei prodotti completamente scarsi che si costano 90 euro 100 euro ma sono completamente da evitare. A questo punto risparmiate e conservate i soldi quando potete spenderli. Vi ho comunque messo dei prodotti molto più accessibili e vi ho organizzato questa lista per fascia di prezzo. Ma prima di iniziare voglio ricordarti che puoi seguire il canale di offerte, sconti, telegram, guido informatico o scaricare l'app dal Play Store Mr. Coupon. Questo te lo dico perché se questi prodotti di oggi che vedi in classifica hanno un prezzo più alto aspetta l'affare seguendo il canale telegram o scaricando l'applicazione. Bene, partiamo! Il primo prodotto che voglio presentarti è lo Xiaomi Vacuum S12. Si tratta di un robot aspirapolvere con funzione lavapavimenti che unisce potenza e tecnologia ad un buon prezzo. Prezzo di lancio 199 euro. Questo robot a questo prezzo vanta comunque una buona aspirazione di 4000 Pascal. Buono comunque per rimuovere sporco, briciole e peli di animali. Dotato di navigazione laser. Quindi ha già un senso poiché non navigherà a caso. L'S12 scansiona e mappa accuratamente la casa e permette di visionarlo anche in tempo reale dove si sta spostando anche quando non siete a casa. L'S12 è estremamente versatile e offre un serbatoio per la polvere da 320 millilitri che dovrete svuotare manualmente e un serbatoio per l'acqua da 170 millilitri che permette comunque di avere un lavaggio limitato. Dovrete andare a caricarlo più spesso rispetto a quelli con stazione. La batteria da 3200 mAh però fa impazzire perché offre un'autonomia impressionante fino a 130 minuti di utilizzo senza ritornare alla stazione. Il che significa tanti tanti metri quadri. Ovviamente si può controllare da applicazione tramite Alexa o Google Home. Quindi puoi dire Xiaomi lava cucina, lava un distretto. È possibile creare barriere virtuali e a questo prezzo davvero non è male. Ti lascio il link in descrizione. Ma vediamo qualcosa di meglio. Spendendo un pochino in più potete acquistare il Dreamy D10 Plus che ha la funzione di svuotamento automatico. Ebbene sì, ha una base, una stazione da 2,5 litri che permette di svuotare il serbatoio per la polvere da 400 millilitri. Mentre per il serbatoio d'acqua da 145 dovremo comunque andare a storarlo manualmente. Offre sempre 4000 Pascal di aspirazione, navigazione, in questo caso laser LiDAR e SLAM. E quindi garantisce sicuramente una copertura più efficiente. E il dispositivo ha davvero buone doti di pulizia e aspirazione. Il D10 Plus ha un prezzo di circa 100 euro maggiore all'S12 ed è una buona alternativa per lo svuotamento della polvere automatica. Inoltre i 5200 mAh di batteria non lo fanno scaricare quasi mai. Xiaomi dichiara fino a 270 metri quadri. Stesso prezzo però il Dreamy ha un nemico acerrimo, il Roborock Q5 Pro Plus che ha davvero la stoffa del campione. Stesso prezzo, stesse funzioni ma maggiore potenza di aspirazione 5500 Pascal, sistema dual roller che funziona egregiamente per i peli e anche la mappatura multilivello su più piani se lo spostate. Inoltre ha un sensore di evitamento di ostacoli 3D che è molto efficace e lo rende davvero intelligente. Ha soltanto la base per lo svuotamento automatico della polvere da 2,5 litri come il suo competitor e le vaschette piccole per i liquidi e per l'aspirazione all'interno. Quindi per il lavaggio andrà sempre inserita manualmente. Finalmente nella lista voglio inserirvi l'L10 Prime che per un prezzo di 500 euro offre una stazione autosvuotante per i liquidi divisa in acqua pulita e in acqua sporca. Però l'assenza invece di uno svuotamento automatico della polvere perché se vogliamo tutto ovviamente dobbiamo pagare di più. A questo prezzo però io sinceramente preferisco lo svuotamento dei liquidi in quanto i liquidi finiscono molto prima quindi se voi dovete ricaricare manualmente ogni volta i liquidi è un casino. Invece avendo queste due taniche di acqua sporca e pulita non andremo a fare molta manutenzione. Lo svuotamento della polvere non c'è ma c'è comunque un capiente diciamo spazio per 400 ml circa per la polvere che comunque si andrà a riempire dopo tantissimo tempo. Inoltre questo robot ha i mop protanti che si possono sospendere cioè sono alzati dal suolo e questo permetterà di farli abbassare quando serve quindi non di andare a bagnare il corridoio se dobbiamo lavare solo lo studio. Tra l'altro mop che sono sostituibili, lavabili e potete comprare anche dei ricambi. Ottimo anche il fatto che abbia una spazzola insieme di icone centrale che permette di raccogliere anche i peli senza andare in difficoltà. Come detto ovviamente se vogliamo svuotamento polvere e svuotamento liquidi dobbiamo andare avanti. Ma vi dico con sincerità che non si riempie così facilmente come credete il sacchetto d'interno della polvere che è in plastica e potete pulire quando volete. È dotato comunque di navigazione lidar, applicazione che è simile a tutti i prodotti Dreamy ed è molto preciso grazie anche al sensore 3D e ultrasonico. Ragazzi questo è un super prodotto, io sono rimasto sbaradito alla sua uscita soprattutto per il prezzo, ve lo lascio in descrizione. Arriviamo quindi al prodotto che è quasi completo ad un prezzo d'attacco esagerato ovvero con stazione per liquidi, acqua sporca, acqua pulita ma anche svuotamento della polvere. Il Roborock Curevo è un robot lavapavimenti aspirapolveri con moci rotanti che permettono di essere lavati anche in stazione prima di ogni lavaggio e di essere asciugati a 45 gradi. Il Curevo è davvero mostruoso sia per lo svuotamento automatico della polvere e per i due serbatoi, pensate quello dell'acqua pulita 5 litri dove potete aggiungere comunque manualmente detersivo e l'acqua sporca. Tra l'altro ha un sensore avanzato, il Dual Roller che permette di catturare la polvere con i 5500 PA di aspirazione ma anche la possibilità di alzare i mop rotanti sui tappeti di 7 mm e a montare la potenza di aspirazione. I Roborock solitamente grazie al sistema di navigazione LiDAR sono molto precisi e riescono a scansare gli oggetti anche se li avete aggiunti dopo, quindi un calzino, una scarpa, senza alcun problema ed è davvero velocissimo. Tra l'altro ha anche la funzionalità multipiano. Il Roborock riesce a pulire una casa anche da 200 metri quadri, è assurdo, ve lo lascio in descrizione. Prodotto nuovo nuovo, il D-Bot T30 Omni vanta di una potenza eccezionale di 11000 Pa, veramente estremo, ma la grande, grande novità è qualcosa che forse magari non avete mai visto prima. Il D-Bot è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con la stazione e con i moci rotanti ma con una tecnologia davvero interessante, ovvero una tecnologia che permette a questo robot di lavare i bordi. La True Edge permette di estendere i panni rotanti tramite un sistema motorizzato per coprire, diciamo, delle parti che normalmente altri robot a causa della forma circolare grande non riuscirebbero. Ovviamente il tutto sempre attivato da un sistema LiDAR 3D di dinamicazione che permette al robot quindi di capire gli angoli e di capire come pulirli al meglio. Questo è davvero, davvero uno spettacolo, un'innovazione. I MOP rotanti ovviamente si possono anche sollevare e si solleveranno sui tappeti dove la potenza di aspirazione, ecco, arriverà al massimo 11000 Pa per andare a rispondere, diciamo, e rimuovere tutta la polvere in eccesso, unita anche dalla nuova spazzola. L'app è tra le più complete degli aspirapolveri, funziona con Google Assistant Alexa, con Giko e il sistema di pappatura è True Mapping a laser ed è super preciso ed è in grado di rilevare qualsiasi oggetto creando addirittura anche una mappa in 3D. Veramente un top prodotto e al momento dovrebbe essere in sconto, ve lo lascio comunque in descrizione. Tra l'altro i due MOP hanno un sistema di umidità costante che è sempre regolabile come molti prodotti e tra l'altro riescono a generare una forza, una pressione sul pavimento per andare a strofinare le superfici. Ovviamente potete utilizzarlo sia su parchè, su pavimenti classici, eccetera, svuotamento automatico sempre per la stazione autopulente, lavaggio a 70 gradi e asciugatura, quindi ha anche la funzione di acqua calda a 70 gradi, cioè veramente un prodotto completo e l'hanno fatto anche molto molto compatto. Piace tantissimo, ce l'ho in prova e non vedo l'ora di portarvelo in una recensione, quindi seguite il canale, in descrizione vi lascio il link. L'S8 Pro Ultra l'ho reputo e l'ho reputato uno dei migliori robot, infatti lo utilizza ancora attualmente, per l'intelligenza con cui pulisce la velocità e il sistema dual roller, è fantastico. Ovviamente non è un prodotto recente, ma questo fa sì che si troverà sempre a prezzo più scontato, già in sconto ma il prezzo secondo me scenderà anche durante i prossimi eventi. Il Roborock S8 Pro Ultra ha una potenza di aspirazione di 6000 Pascal, MOP vibrante che offre veramente una pulizia davvero concentrata e profonda e soprattutto la modalità di Vibra Sonic permette veramente di pulire ottimamente. Io è uno tra i prodotti migliori che ho provato anche per l'aspirazione dei tappeti, dove gli altri non riescono veramente a pulire. Il sensore è davvero davvero reattivo 3D e riesce a rilevare anche gli ostacoli e soprattutto non cadere dalle scale. L'app è fantastica, permette di programmare tutto, di scannerizzare in 3D l'ambiente e tanto tanto altro. Per questo voglio metterlo nella presentazione, ma probabilmente uscirà anche la versione S9, ma questo si troverà a ottimo prezzo e già ora in offerta. In descrizione vi lascio il link. Sì, costa un bel po', ma il DreamX 40 Ultra al momento è quello con la migliore tecnologia sul mercato. Potenza di aspirazione di ben 12000 Pascal, ok, avremmo potuto farne anche a meno e avere meno. Acqua calda a 70 gradi per il lavaggio dei mop, mop estendibili con braccio meccanico per pulire bordi e angoli, come la stessa cosa la spazzola anteriore. Sensori multispetrali che rilevano un movimento preciso di ostacoli per evitare collisioni. Anche quindi non abbiamo soltanto il motion, ma anche la spazzola estendibile, l'autosvuotamento, l'autopulizia con lavaggio e asciugatura d'acqua calda. Cioè esagerata, l'applicazione DreamE e intelligenza artificiale ai CleanGenius. Al momento è veramente il top dei prodotti sul mercato. La possibilità di miscelare automaticamente il detergente senza inserire manualmente il detersivo all'interno dell'acqua pulita. 180 minuti di funzionamento e fino a 160 metri quadri di pulizia. Il prodotto è però un po' alto come prezzo, io ve lo lascio comunque nella descrizione se non badate a spese. Lì fuori ci sono davvero tantissimi prodotti. Per non farti andare al manicomio ti ho selezionato io quelli che reputo migliori per quella fascia di prezzo e soprattutto anche le novità. Sì, perché in questa classifica ci sono prodotti recentissimi, escono davvero troppo troppo velocemente. Io per questo se dovesse aggiornarsi la lista te la aggiornerò, il video non lo posso aggiornare ma te la aggiornerò nella descrizione dove trovi tutti i link e anche qualche coupon. Seconda cosa importante, se non vi piace il prezzo di un prodotto o non volete ancora acquistarlo, seguite assolutamente Telegram. Perché su Telegram Guida Informatica, che potete accedere da qui sotto, ad esempio ho trovato un buono di 40€ da Amazon per il 330 Omni che trovi lì. Se non hai Telegram, qual è la soluzione? A aprire e iscriversi al gruppo Whatsapp. Whatsapp che puoi seguire le offerte in tempo reale, ricevere le notifiche come potente, ma in ultimo potresti scaricare per Android l'app MrCoupon. Segnala bene perché ti dà anche i grafici dei prezzi. Per qualsiasi domanda io sono a disposizione, ti lascio tutto nella descrizione e nei commenti. Scrivimi perché ne ho tre al momento che sto utilizzando. Veramente li ho provati tutti e di tutte le marche. D-Bot, di Ecovacs, tutti i prodotti Dreamy e soprattutto anche i Roborock che li amo. Fammi sapere nei commenti qui sotto, ti aspetto.